Domani giornata mondiale per la vita, la nostra città vedrà la presenza del Vescovo della Diocesi Monsignor Pietro Maria Fragnelli a concelebrare nella Basilica Chiesa Madre questo importante appuntamento dedicato alla vita in tutte le sue sfaccettature. Sarà inoltre presente una delegazione alcamese del Movimento per la Vita, ne abbiamo parlato con l'arciprete della città Don Aldo Giordano. La vita delle persone, non la vita solamente in generale, che è un bene preziosissimo, è una persona umana che è stata fatta ad immagine e somiglianza di Dio. Il Vescovo alle 10.30 presiderà l'Eucaristia e sarà un momento nel quale noi metteremo tutto il nostro impegno perché la persona umana sia valorizzata dal nascere fino al morire. Perché va rispettata la persona, la persona umana? Appunto perché per noi cristiani è stata fatta ad immagine e somiglianza di Dio. Il problema della centralità dell'uomo nell'universo, una certa visuale, per esempio il sole non gira attorno alla Terra, per esempio questo cambiamento che è stato apportato da Galileo ha sconvolto un po' la visuale che la centralità dell'uomo dipendeva dalla centralità del pianeta Terra. Una certa opposizione ideologica o filosofica alla visione di Galileo portò anche a negare quella che era l'evidenza. Però questo ci fa capire come la Chiesa ha un'altissima concezione della persona umana. La vita della persona viene relativizzata perché da sempre l'uomo strumentalizza l'uomo o lo considera inferiore. E questa visione non è cristiana ma non è nemmeno umana. La dignità della persona umana è un'acquisizione culturale che è frutto della visione cristiana dell'uomo. Però è anche una questione culturale. Oggi noi chiaramente diciamo che l'uomo non può essere strumentalizzato, non è una cosa. L'uomo non è a servizio dell'economia, è l'economia a servizio dell'uomo, cioè i soldi sono a servizio dell'uomo. E questa è una visione che ancora non passa. La Chiesa non ha mai, per esempio su questo argomento, negato la proprietà privata, però questo non vuol dire che la proprietà privata sia un assoluto rispetto a quello che è il bene comune. È un momento nel quale noi vogliamo sottolineare come la parola di Dio sia parola di vita. Se la dignità dell'uomo, cioè la visione antropologica cristiana, è nostra ed è passata alla cultura, si deve proprio alla parola di Dio. Queste restrizioni domani con questa giornata far capire l'importanza della vita in un momento di pandemia. Qui stiamo vedendo come la pandemia non può mettere al centro per esempio l'economia, mettere al centro gli interessi di parte, ma deve invece portare tutti a centralizzare la persona, la vita della persona, la vita umana. Vorrei concludere leggendo però una parte del messaggio dell'Ecei. Dire sì alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di irripetibilità, non cedibile. Solo considerando la persona come fine ultimo sarà possibile l'esercizio pieno della libertà. Se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani, tutti gli uomini di buona volontà, si impegnino a conoscere e far conoscere la verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia ogni vita umana.